amici ben trovati siamo al bel vedere canazzei sullo sfondo il meraviglioso gruppo del sassolungo e adesso faremo la pista diego una pista nera molto bella molto scenografica la faremo insieme a francesco ciao francesco sei pronto grandi allora vogliamo partire ecco questo è il primo tratto della pista diego molto scenografica siamo al bel vedere il sassolungo davanti a noi via si vola vai e adesso ci apprezziamo a fare il secondo tratto secondo tratto che guarda il catinaccio ma la neve è un po rovinata certo siamo a marzo via bravo voglio provare questa video ciao 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 ciao